DICLOREUM UNIDIE E' la corsa a tappe più famosa al mondo. E' il fascino del Tour de France. Distese infinite e salite impervie. Tre settimane intense di battaglia all'inseguimento della maglia gialla. Tour de France 2019, su Rai 2, Rai Sport, Radio 1, in streaming su Rai Play. Dal 6 al 28 luglio, sulle reti Rai. Quando il dolore inizia a farsi sentire, puoi intervenire con il nuovo Enantium. Pronto da bere, agisce contro mal di testa e dolori mestruali. In caso di dolore acuto, anche a stomaco vuoto. Nuovo Enantium, soluzione orale in bustina. E puoi liquidare il dolore. E' Menarini. Qualcosa di nuovo sta arrivando. Coinvolge tutti. Nessuno escluso. Le spiagge si svuotano. Sembra ci sia meno voglia di partire. E' Movement. E cambierà la tua estate. Attori straordinari. Film eccezionali. E il cinema sarà ancora il luogo in cui emozionarsi e condividere le passioni. Movement. Al cinema. Tutto l'anno. Più sudi, più sei di fresco. Sì, con i deodoranti Infasil 2C. Quando Giulia suda, la molecola 2C si attiva. Dopo 5 minuti la freschezza è qui. Dopo 15 minuti, guarda com'è cresciuta. Perché più Giulia suda, più cresce la freschezza. Con Infasil, più sudi, più sei di fresco. E oggi prova i nuovi stick Easy Dry. La loro texture nasce fluida e diventa compatta. Gentili sulla pelle, asciutto veloce. Infasil Deo Stick. Da Angelini. Afte e ferite della bocca causano tanti disagi che Alovex Protezione Attiva può risolvere velocemente perché crea una pellicola che protegge rapidamente dal dolore e aiuta la cicatrizzazione. E ti senti meglio. Alovex Protezione Attiva. Alovex Protezione Attiva. Per la serie Doc 3 Solitary La vita quotidiana in un carcere di massima sicurezza in Virginia Un film per riflettere sul concetto di condanna e di pena Doc 3 Il racconto del mondo e delle sue storie Giovedì in seconda serata Rai 3 Ciao Ci vediamo presto su Rai 3 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti